E' un nuovo candidato a mistero, è un speciale, vediamo che esibisce i suoi tipi, i suoi quadricipiti. Ora lo facciamo in palestra, vediamo entrare Hermes speciale, guardate il movimento dei bicipiti. Settiamo la votazione del nostro giudice di cara, giudice. 10 in più, è un 10 in più, è un nuovo campione di mister Olimpia, Hermes speciale.